Cosa potrebbe succedere domani, visto che lei anticipa le notizie per Libero? Che cosa succederà? La notizia che vorrei dare è che mi sono fidanzato con lei, ma questa sarebbe una bugia e per cui... Me lo sta chiedendo io in diretta a TV, va bene? Sì, sì, ma non è mica una cosa... Le posso dare la risposta al prossimo mese, quando torniamo a trovarla? Benissimo, io l'aspetto. Va bene, può aspettare un mese, mi aspetta, va bene. Io mi illudo per un mese. Grazie, direttore Vittorio Feltri, buona giornata.